Chi mi ha preceduto, molti dei relatori che mi hanno preceduto, sono uomini del futuro. Io mi sono sempre definito un uomo del presente, proprio perché io credo che tutto il mio lavoro non riesco a fare degli enormi passi in avanti, poi ciascuno è chi è, si deve accettare. Io molto spesso faccio dei passi laterali, cioè cerco di vedere le cose che vediamo tutti, il quotidiano, quindi di cui si parla, semplicemente con un punto di vista assolutamente personale. Mi occupo di spazio, mi sono andato in architettura e faccio design perché poi è stato un po' il destino di tutti quelli della mia generazione, quindi quando guardo questo tavolo, semplicemente faccio, mi sposto lateralmente e diventa questa roba qua. È una specie di atto di magia, nel senso il titolo che vi ho proposto era la forma come contenuto, allora io mi immagino sempre un cilindro, però il cilindro del prestigiatore, il contenuto del cilindro è un coniglio bianco, quindi la forma come contenuto è in questo senso, c'è sempre una seconda lettura, un secondo messaggio, questo è un tavolo che rinuncia alle quattro gambe portanti, perlomeno non è che rinuncia, scommette, esagera, quattro sono portanti, 171 restanti sono morbide, quindi è anche una specie di gioco di prestigio perché la linea esterna perimetrale è tutta morbida, quindi la gente, mi ricordo quando nel 2001 abbiamo presentato il senso del mobile, le toccava e pensava che questo tavolo semplicemente galleggiasse perché erano tante le gambe anche se erano morbide, ma poi io in fondo progetto questi tavoli semplicemente perché poi sono teatri di storie che possono accadere, questo era lo schizzo con cui ho presentato il progetto a Cappellini, cioè per me a me interessava quello che succede sotto al tavolo, quindi ogni cosa è vettore, una forma come contenuto. Poi voglio dire, noi abbiamo giocato tanto con l'idea della piazza, l'idea della piazza è la più grande idea architettonica italiana, questo luogo di incontro, voglio dire forse il maggior prodotto di esportazione architettonica italiano. Per me si riduce in scala 1 a 250 ed entra nei salotti delle persone perché un po' ci siamo dimenticati il senso della piazza, ma è semplicemente anche questo un gioco di magia, una semplice piruetta, un movimento laterale che serve a riportare al centro dell'attenzione un tema come quello della piazza. Oppure vado in piazza Ginovalle a Milano dove gli edifici sono fatti così, sono disegnati da Ginovalle stesso a cui è dedicata la piazza e per fare un edificio come sede della squadra del Milan decido che questa forma in fondo deve essere semplicemente portatrice di un vettore di un contenuto. Quindi questi atleti corrono sul tetto del soffitto, impattano con una palla, quindi quella roba lì diventa messaggio, era man motion e motion, però è esattamente trattare anche la superficie di un edificio non mio come una tela. In fondo veramente è sempre un passetto laterale. Questa è un'architettura nel giardino fantastico di Bomarzo che mi ha sempre colpito, cioè io guardo il mio quotidiano perché poi ciascuno, scusate se lo sceglie il quotidiano, non è che necessariamente da qui a casa vostra fate sempre la stessa strada, io faccio sempre le strade diverse. Quindi questo è il mio quotidiano in fondo, io elaboro il mio quotidiano, faccio il passetto laterale e diventa questa roba qui, questo è un lavoro che ho fatto per l'ultima triennale, la ventunesima, in fondo non ho fatto altro che stroflettere Bomarzo, la gente entrava in questo igloo specchiato ed entrava dentro la mia testa, infatti da quelle orecchie lì erano dei grandi amplificatori da cui uscivano parole estratte da un libro che ho scritto io che si intitola Il design spiegato da mia madre, quindi praticamente uno simoro perché vi assicuro che non si può spiegare il design a vostra madre, assolutamente non si può, vostra madre quando provate a spiegargli qualcosa, mia madre purtroppo è morta, ma quando provavo a spiegarle qualcosa lei sorrideva e diceva Fabio cosa vuoi mangiare, quindi è semplicemente questa roba qui, allora io provo a spiegarlo attraverso le orecchie della mia testa, la gente entra dentro e gli racconto un po' di storia insieme a un testo di otto e mezzo di Fellini. Io sono molto attratto dai visi, dai volti, dalle maschere, in fondo sono il nostro vero biglietto da visita, noi ci esprimiamo con tantissima mimica facciale, questa è la maschera tipica del teatro greco, questa maschera serviva a celare i volti reali degli attori, quindi comunque a dargli delle connotazioni artificiali, ma aveva anche un altro uso assolutamente interessante, serviva per amplificare la voce, adesso ho questo microfono che volgarmente viene detto gelato, anche se non si lecca, ma pensate nel teatro greco erano enormi gli spazi aperti, quindi c'era bisogno di questi aggeggi che amplificano quasi magicamente la voce, anche lì la magia mi interessa moltissimo, insomma questa maschera diventa una maschera un po' fuori scala per il nostro quotidiano e qui sovviene un'altra cosa, anche lì il mio quotidiano sono state delle letture di Oscar Wilde e mi imbattei in questa frase che mi colpì moltissimo, tutti gli uomini mentono, ma dategli una maschera e diranno la verità, allora Nemo serve per dire la verità e questi occhi a me sanno di verità, io sono molto affascinato da David Bowie come artista, abbiamo veramente perso una persona ci ha dato tantissimo, quindi quando mi ha chiesto un cliente di fare uno showroom di rivestimenti in mosaico a Berlino, ho pensato alla sua trilogia di Berlino, lui ha fatto tre album in due anni, 77 e 78, tre album epici, allora ho messo i suoi grandi occhi di due colori diversi in vetrina di uno showroom di mosaici, quindi vedete sempre questo spostamento laterale, cioè la trasfigurazione della realtà, guardare la realtà con occhi diversi, semplicemente occhi diversi, in questo caso con gli occhi di David Bowie. Allora per me, questa è un'immagine che ho preso da internet stamattina, mi serviva un'immagine di due pilastri, questi sono esattamente due pilastri con cui mi sono imbattuto quando mi sono trovato a fare questo locale qui, questo è un locale a Milano fatto un bel po' di anni fa, 15-20 anni fa, avevo questi due pilastri ma semplicemente questi pilastri per me sorreggevano il palazzo che c'era sopra questo locale, allora diventavano queste braccia di questo Dio, lì anche stavo leggendo il testo sacro dei morti egizio, c'era questo Dio che si chiamava Shou che reggeva la volta celeste e allora questi due pilastri erano immediatamente diventati le braccia del Dio Shou e sorreggevano la volta di questo locale a Milano. Oppure voglio dire ci si imbatte il mio quotidiano e anche visitare mostre, amare artisti, io amo tantissimo De Chirico, allora le sue piazze d'Italia ne ha fatte centinaia di piazze d'Italia, no sono ossessioni, gli artisti sono ossessionati, sono dei maniaci ossessivi evidentemente e a me diventa questa roba qui, la diretta relazione, io guardo De Chirico, mi sposto lateralmente, so chiudo un po' gli occhi perché poi è sempre questa capacità di trasfigurazione ragazzi, la progettazione è trasfigurazione e diventa questa roba qua. Oppure guardo Tiziano, questo è del 1538, era bellissimo, allora pensate a Tiziano, pensate a tutti gli artisti della sua epoca, prendevano queste donne, quasi sempre per la maggioranza prostitute dalla strada, le facevano stendere su un triclinio, le dipingevano e le trasformavano in dee perché poi tutti questi quadri si chiamavano Venere, alle acque, la dea seduta, quindi la divinizzazione della prostituta era il top, questo è totale potere di trasfigurazione, esattamente quello che accade con l'arte, io ho cercato di farlo con questo divano, in realtà qui mi interessava il fatto anche di superare la soglia dell'opera artistica, quindi valicare la barriera, per me quello è fondamentale, cioè non pensare che l'opera d'arte sia altro da sé, quanto in qualche maniera interagire, farla propria, attraversare la soglia, forse quello è l'unico passo in avanti che mi piace invece che è laterale, cioè varcare la soglia dell'opera. Andiamo avanti, questo è un punto di vista, uomo italiano, eterosessuale, quindi il femminino è sempre negli occhi e comunque nei desideri di un uomo, per me è diventato, questa è la mia prima architettura pensate, è stato il primo lavoro, in cui queste gambe di donna che sono sempre una specie di gol per qualsiasi uomo diventano la soglia di un negozio di moda. Oppure il quotidiano può essere anche uno stilista come Tommy Ilfiger, questa è una pubblicità delle sue, che mi ha chiesto di fare una vetrina speciale per questo lancio a Milano eccetera eccetera. Insomma ne approfitti anche eventualmente per fare un passetto di critica, gli dici Tommy Ilfiger mio caro, tu in fondo non fai altro che proporre lifestyle alla gente, non sono altro che dei kit di montaggio di un immaginario come questo. Quindi qualsiasi passo laterale lo decidi tu, qualsiasi punto di vista lo decidi tu come progettista e ne fai quello che vuoi. Io per esempio quando vedo questa macchina qui, che la gente fa impazzire, io non sono per niente appassionato di macchine, non possiedo una macchina, per me quando mi chiedono di fare un, quella è una Mustang, però mi piace il nome Mustang, Mustang è un cavallo selvaggio, no? Allora quando mi chiedono di fare lo stesso oggetto per un produttore di robine, di giocattolini in legno per bambini, la Mustang diventa un cavallo vero, no? Tra l'altro pensate a questo, piccola divagazione, è incredibile che ancora noi giudichiamo il potere di un motore in horse power, cioè noi ancora siamo così legati ad una vecchia logica di trasporto con l'animale equino da trasformare ogni potere di qualsiasi autoveicolo, persino di una Ferrari 500 cavalli, dal cofano apri e escono 500 cavalli, quindi per me, io quando vedo quella macchina lì, per me è questa roba qua, trasfigurazione pura, oppure quando vedo questo, voglio dire, nella nostra città siamo abituatissimi a questo tipo di panorama, per me questo panorama qua diventa quest'altra cosa, questo è successo qualche anno fa, il sindaco di Milano mi chiese di risolvere il problema che c'era a Monte Napoleone, mancanza di verde e parcheggio selvaggio, è semplice, mixi le due cose, ti sposti lateralmente, le auto diventano il vaso perfetto replicato in vetro resina, tra l'altro te le fai pagare da Fiat perché doveva fare il lancio della 500 cabrio, quindi proprio il cerchio si chiude sempre, lo devi chiudere come progettista perché in fondo noi dobbiamo portare a casa il risultato, guardate non so se avete sentito, se avete letto il discorso di ringraziamento di Bob Dylan al premio Nobel, lui dice ma uno non è che fa le cose perché pensa di vincere il premio Nobel per la letteratura, lui si è un po' paragonato a Shakespeare, lui dice Shakespeare secondo voi si preoccupava di quanto sarebbe piaciuto ai critici o di quanto sarebbe arrivato ai posteri, quello si preoccupava di sul palco ci entra l'attrice che deve recitare il ruolo, il teschio per Amleto, vero, finto, chi lo fa in una macchina 3D se ci fosse stata, i problemi sono più contingenti, quindi questo far quadrare i conti, questa è la vera quotidianità, questo è il vero mestiere del progettista, il suo spostarsi di lato e scelgersi il punto di vista. Andiamo avanti, oppure questo, io guardo, questo tra l'altro accade spesso nelle strade dissestate della nostra Italia e per me diventa questa roba qui, tra l'altro è un'occasione di una storia da raccontare perché questo è un progetto che io ho intitolato Green Line in onore di una mia visita a Beirut dove a un certo punto fate conto che in questa città pazzesca si era spezzata in due perché da una parte c'erano i cattolici e dall'altra c'erano i musulmani, allora si sparava da una parte all'altra la barricata, fai conto voi siete cattolici, voi siete musulmani, questa strada in mezzo non ci passava più nessuno e nel manto d'asfalto iniziavano a crescere le piante, quindi questa via, questa strada fu ribattezzata Green Line, la linea verde, un po' come la linea verde dei Boeri che sogna per Milano, però bellissimo che un fiore con la sua forza attraversi lo strato d'asfalto e riacquisti dignità e provi anche ad insegnare agli esseri umani la spesso assoluta insensatezza. Oppure guardo ai vicoli di Napoli e mi viene di dire, io vivo a Milano dove ci sono le strade più eleganti, il quadrilatero della moda, allora appena ne ho l'occasione napoletanizzo Milano, questa è Via della Spiga, nello specifico questo è un intervento fatto per le luminarie di qualche anno fa, l'assessore chiamò una serie progettisti, mi assegnò Via della Spiga e io decisi di replicare Spacca Napoli in Via della Spiga con degli elementi completamente fatti di Dio, di luminosi. Oppure decido di prendere l'oggetto feticcio della mia gioventù da designer, di affrontarlo prendendo in prestito un personaggio dal Simposio di Platone. Il Simposio di Platone è un libro in cui ciascuno dà un'interpretazione dell'amore, c'è questo drammaturgo che a un certo punto racconta questa storia, l'essere umano è un essere perfetto, felicissimo, assessuato, è così felice che dà fastidio agli dèi. Gli dèi si lamentano con Zeus e per farvela breve Zeus li fa venire tutti in fila a questi caspita di esseri umani e con delle saette li divide a metà, costringendoli a ritrovare quindi la perfezione originaria semplicemente ritrovando la complementarietà del mascolino e del femminino. Quindi io che ho sempre considerato perfetta la Pantoncear faccio Zeus e la spezzo in due, la spezzo in him and her e questo è un altro spostamento laterale, è un altro punto di vista, la perfezione in fondo non esiste, la ricerchiamo sempre inseguendoci sulla superficie del pianeta, siamo sempre un po' Adamo e Eva che si cercano. Oppure guardiamo quest'altro, ciascuno di noi passa attraverso fasi di assestamento, stadi evolutivi diciamo, questo tra l'altro è un divano che mi ricorda moltissimo i miei anni a New York, io ho sempre detto quando viviamo a New York che i barboni, i clochard chiamateli come volete, gli homeless, sono i veri padroni delle città, perché questi si appropriano di qualsiasi cosa che per strada, noi in fondo non consideriamo lo spazio pubblico come uno spazio nostro, lo spazio pubblico è dove casomai lanciamo la carta per terra, non ce ne curiamo, mentre loro sono i veri padroni della città, in fondo dovremmo imparare molto da loro. Quando ho proposto questo divano a Cappellini gli ho detto Giulio questa roba qui è adaptation, è esattamente l'adattamento all'avversità delle condizioni, il trovare comodità in qualsiasi punto di rottura ed è quello che ci consente di andare avanti. Oppure, questo è un altro divano che ho disegnato sempre per Cappellini, pensate che io, è un adaptation anche questa cosa qui, io vi ho disegnato solo questo elemento qui, che non sta in piedi, e questa è una cosa che mi interessa spiegarvi, è come un io, è come un io, io non sta in piedi. Dico sempre che anche linguisticamente l'io è contenuto nel noi, se voi specchiate noi è io all'ennesima, io all'ennesima potenza, quindi noi ha senso soltanto se tanti io si mettono assieme. Quindi questo divano non è altro che tanti moduli messi assieme che si possono unire all'infinito e creare un divano per far sedere chiunque, d'altro viene usato adesso molto nelle hall degli aeroporti, si chiama AND, AND è la congiunzione io e te, e te, e te, e te, e tra l'altro AND al contrario è anche DNA, è una specie di catena, di genoma diverso per una generazione più condivisiva se volete. Oppure la tua quotidianità è anche fatta di riferimenti classici, il famoso lettino della psicanalisi come Freud, e queste sono le macchie di Rorschach, i test di Rorschach che ti fanno vedere questi test e tu devi dare delle interpretazioni di queste macchie. Per me diventa una cosa qui, quindi mi autoanalizzo, tra l'altro è interessante ragazzi che è, fate conto che nei primi del novecento, fine ottocento, primi del novecento, Freud era il fighissimo del suo periodo storico, quindi quella roba lì che il giovane Le Corbusier disegnava nel 28, non è altro che figlia esattamente di quel lettino, quindi è interessante come il design un po' risenta evidentemente degli influssi culturali, delle mode, diciamo, perché Freud era il re a quel tempo, la psicanalisi, era veramente la disciplina regina, cioè molto di più le stampanti 3D, era la nanotecnologia del momento la psicanalisi. Insomma questa roba qui diventa l'apsus, quindi prendo il divano di Freud, lo fondo con la scelta di Le Corbusier e cambio tutti i pattern persiani del tappeto di Freud con le macchie di Rorschach. Oppure prendo la bandiera americana, semplicemente solo, non trasfigurando, semplicemente un po' sto chiudendo gli occhi, diventa questa roba qui, che è uno charoon che ho fatto in tempi non sospetti di buscismo, adesso sarebbe quasi a replicare per Trump, ma insomma, semplicemente disassemblando la bandiera. O rimanendo nel tema delle bandiere, il Comune di Milano qualche anno fa mi chiese di fare un padiglione per Shanghai che rappresentasse la città, allora ci si interroga su quello che è la Croce Rossa in Campobianco, ti accorgi che la Croce Rossa era la nobiltà, il Campobianco era il popolo e cosa è la nobiltà di una città oggi? È una nobiltà creativa, allora ci metti i boccioni, ci metti il taglio di Fontana, attenti che Boccioni e Fontana non erano milanesi, quindi che cos'è? Anche lì la forma come contenuto, è diritto di terra, e non di sangue, tu stai affermando con una giunta di destra che comunque il simbolo della città è la Croce Rossa in Campobianco reinterpretata con le eccellenze di Milano che non sono milanesi, un po' in barba alla Lega, qui c'è tra l'altro Miuccia Prada, qua c'è l'ultima cena di Leonardo che non era milanese ma la fa a Milano e qui anche lì, questo è da manuale degli architetti, l'unica cosa che sono riuscito a trovare su internet, perché ora il nome degli architetti è praticamente in disuso in materia preistorica, sta di fatto che è un po' l'approccio ai ripiani, questo mi fa venire in mente quando arriva questo cliente americano, mi dice Fabio vorrei fare un negozio di scarpe e gli faccio questa roba qui, perché in fondo è semplicemente rapportarsi a una mensola nello spazio, la fa impazzire, adesso chiudi gli occhi e diventa questo reticolo un po' favolistico, un po' immaginario, un po' magico, perché la parola magia a me piace tantissimo, guardate io non credevo tanto nella magia, un amico qualche anno fa mi ha omaggiato di un biglietto per vedere David Copperfield, secondo me mi ero dimenticato perché poi l'età adulta ti fa dimenticare una serie di cose, allora ero andato lì dicendo questo Copperfield, questo charlatano eccetera, oh mi ha messo in prima fila il suo mio amico abbastanza fortunato, questo alla vostra distanza David Copperfield mi ha fatto cadere la mascella, cioè è una roba, lasciarsi travolgere dalla magia è bellissimo ed è così infantile come approccio, è così, è sempre l'occhio del bambino, ecco perché vi ho detto per me nel cilindro c'è sempre il coniglio bianco, andiamo avanti, guardi un gesto così e diventa questa cosa qui, questo anche lì, questi sono anni di sperimentazione sempre con questo produttore di mosaico che si chiama Bisazza, questo era uno stand fieristico ragazzi, uno stand fieristico per un produttore di mosaici, quindi ciascuno può strecciare interpretazioni, ciascuno può far diventare quotidiano straordinario qualsiasi cosa, questa è una maniglia che mi ero comprato in casa, quando ho fatto casa mia ho detto che la voglio semplicissima, il tondino di metallo eccetera, però poi avendola sempre sotto gli occhi ho detto ma ragazzi il tondino di metallo non mi accontenta, quindi ho semplicemente asportato materia e questa materia ha originato un cuore, questo perché, piccola micro storia all'interno, per me era il progetto più difficile di disegnare una maniglia perché odio le porte, mi fanno proprio schifo le porte, le divisioni, le barriere, non riesco a sopportarle, quindi disegnare una maniglia era quasi una contraddizione in termini evidentemente e qui il titolo di questa maniglia, come molte volte per qualsiasi opera, spiega tanto le intenzioni, love opens doors, soltanto l'amore apre le porte, quindi non basta impugnare un tondino, ma devi togliere il materiale al tondino, disegnare un cuore e impugnare un cuore. E qui queste sono le copertine di due monografie fatte negli anni passati, però anche questa è trasfigurazione pura, qui a quel tempo mi piaceva mettere la mia immagine in copertina, poi semplicemente ho detto ma che senso ha, io mi vedo così, io mi vedo che socchiudo gli occhi, faccio un passo laterale, mi apro il petto, trovo un fiore dentro di me e lo dono all'interlocutore e questo è forse l'interpretazione in cui mi riconosco di più. Guardate, per chiudere, io non sono certo che l'evoluzione sia un passo in avanti, ma sono certo che l'evoluzione sia un passo di danza, quindi godetevela. Ciao.